Ti ho guardato il passaporto? Hai male il passaporto? Beh, ho spesso il passaporto, ma... Ti chiediamo qual è il passaporto? Qual è il passaporto? Noi ti vogliamo aiutare, non pensi a qualcosa di male. Come hai passato la frontiera da Serbia? Io sono da Bella Palanca fino a qui in Corbusio. No, Bella Palanca, frontiera. Come sei passato? Ma tramite quale? Slovenia, Croacia... Germania, Bulgaria... Ungaria... A dove è arrivato? Da dove è arrivato? Da l'Italia... Da l'Italia... Da l'Italia... Da l'Italia... Roma... Da l'Italia... Da l'Italia... No, non ti voglio... Non ti voglio... Da l'Italia... Da l'Italia... Da l'Italia... Da l'Italia... Dove ti vuoi andare dopo la Serbia? Io devo andare nella mia città... per campare... Araba... Molto lontana... Nogli... Da l'Italia... Da l'Italia... L'Italia... A chi si chiama... Araba... Non ti voglio... Molto lontana... Molto lontana... L'Italia... ha detto che vuole venire in un'arabia ma non sapeva dove non sapeva dove non sapeva dove c'è ma sapeva che è in srbia non sapeva dove è in srbia non sapeva non sapeva non sapeva non sapeva dove c'è non sapeva ma che va non sapeva dove mi ha detto che mi è in bale mi ha detto che il mio amore ha l'abbiamo non sapeva ma sono stasi non sapeva 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 Non c'è nessun punto. un po' di problemi e altre cose e quali soldi per mangiare? un po' di mangiare un po' di mangiare ho chiesto da te chiedere come ti diventa vivere la senza soldi io chiede ah, ho chiesto ho chiesto, ho chiesto ho chiesto, non chiesto ma chiesto, da un po' di mangiare da un po' di mangiare ecco, la mio miù ti da, c'è soldi per mangiare per mangiare e... a dobra ti idea? da ili da ga smestite negdè pite' ga gdè spava noć dove tu dorme, l'anotte? in giro u kruge, gdè stigne? znači, park, club, pa... imaš dobra ideja da ga priberu negdè možda i na četvrti da ga uzmu da ima zaštitu zdravstvenu da ima dobra ti idea da obavestim italijansko ambasadu noi posijamo informare la ambasada italijana pa da Roma me ju araba aaa, kaže bolje arabsko ambasadu koju arabsko, koju? una valsijesi no ne, posibili una valsijesi una valsijesi una valsijesi perchè io sono una valsijesi e non esiste per me ambasada mi ha detto mi ha detto da mi non esiste direttamente che è stato che è stato che è stato qui è stato mi ha detto qui è stato la nacionalità Siria Afghanistan Pakistan Jordan è stato molto ma è stato la famiglia solo solo l'ho 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 l'ho